15 aprile 2022 in diretta da Spadola nel vostro Gij, guardate il paese è meraviglioso ma alla nostra sinistra qualcosa di più meraviglioso un volto nuovo delle calzature, il signor? Cori Nicolino Di dove se vi posso chiedere? Cardinale Come mai qua? Faccio il giro consegna a domicilio E allora spieghiamo cosa fate con questo vulgone? Ritiro e consegno le scarpe Quindi per chiamarvi dove vi possono trovare? Sul numero di cellulare Che? 389, 389, 389, 55, 65, 009 Quindi 389, 55, 65, 009 Uno vi chiama, poi andate a casa Ma le riparate sul posto? No, no, le porto a Davoli Marina E qui dentro se si può sapere cosa c'è? Solo scarpe Possiamo dare un'occhiata? Ormai ci troviamo Voi eravate prima a Serna, giusto? No, io sono arrivato a Sembario nel 94 Spiegateci Il 94 Ho aperto di fronte a Luposella Non mi ricordavo Poi? Dopo il 2004 ho aperto a Serna E infatti mi ricorda a Spinetto Dopo il 2006 ho aperto a Caravalle E il 2019 ho aperto a Davoli Vediamo un'occhiata Vabbè, poche cose Sì, ho sericato già Senta, ma voi cosa fate oltre alle scarpe? Scarpe nuove, artigianali Quindi uno vuole un paio di scarpe? Pazzeria Viene da voi? Sì Vi prendete il numero, la misura? La misura Avete già un disegno o lo create voi? No, qualsiasi tipo Qualsiasi modello mi portano, lo facciamo Ho capito E senta E tutti dicono che è veramente conosciuto Come si chiama il vostro negozio? È Calzolaria Gori, Crilu Da tre generazioni al vostro servizio Va bene È una pagina Facebook? Sì, sì Ce l'ho Micolino Gori Micolino Gori Su Facebook Sì Senti, invece per quanto riguarda la pelletteria? Tutto Di pelletteria aggiustiamo borse, borzone Tutti Ma dico vendete portafogli, cinture Sì, sì Cinture Che cosa avete? I prodotti avete adesso in negozio? Adesso ho cinture Ho tagliato 5.000 cinture E dove siete di preciso? Alla prima rotonda salendo per tavole superiore 150 metri sulla sinistra E la via come si chiama? Via Papa Giovanni Ho capito E come orari? Dalle sette alle una Dalle quattro e mezza alle nove alla sera Senta, ma questo lavoro le dà soddisfazione? Sì, sì, sempre Mi ha dato sempre soddisfazione Lo faccio con amore e con passione Senta, l'ultima domanda Quando fa le cinture di pelle La fibra la inserisce lei? Sì, sì Tutto io Taglio e monto le fibra Qualsiasi tipo di fibra vuole il cliente Io gliela metto Senta, mi avevano chiesto un tempo fa Di intervistare per farle questa domanda Quanto riguarda i marsupi? Pure marsupi di qualsiasi genere Tra colle Lunghi Adesso te la devo fare a te pure una Vabbè, più avanti Te la faccio a te una bella tre Senta, un messaggio per coloro che ci guardano di Pasqua Un auguro lo vuole fare? Tanti auguri a tutti Ai miei clienti che mi rispettano da 30 anni Mettetevi qua così vi faccio un video saluto Con il camioncino Eccoci qua, guardate che meraviglia Eh? Questa sì che è pubblicità vera Qua salutano tutti perché lo chiamano il re della scarpa Grazie e allora buona Pasqua Grazie, buona Pasqua a tutti